Salve e benvenuto o benvenuta a questa nuova lezione del corso che è dedicata alle verifiche ispettive del sistema qualità, quindi come per tutti gli altri argomenti vedremo le modalità di inserimento, consultazione e aggiornamento dati. L'ambiente delle verifiche ispettive lo possiamo raggiungere da questo pulsante SGQ, sistema gestione qualità, inserimento dati, poi clicchiamo qui su verifiche ispettive, oppure lo possiamo raggiungere dai pulsanti principali cliccando su sistema qualità, registrazioni, processi di sistema, verifiche ispettive e qui troviamo il sottomenu completo relativamente a questo argomento, quindi apriamo l'ambiente di inserimento dati. Cosa sono le verifiche ispettive? Le verifiche ispettive sono uno degli aspetti fondamentali del sistema qualità certificato ISO 9001, norma che attualmente è nella sua ultima versione del 2015. Le verifiche ispettive servono appunto a andare ad indagare tutte quelle che possono essere le cose che non vanno in azienda e ovviamente a darne evidenza oggettiva, nel senso che bisogna fare in modo che questi dati, il fatto che abbiamo condotto le verifiche ispettive su aspetti importanti della gestione aziendale, possano essere evidenti da qualche parte, evidentemente in un software, ma in un software che poi magari ci faccia anche una stampa, un cartaceo su cui si possa mettere una firma, perché poi quando l'ente certificatore una volta all'anno viene in azienda a verificare che il sistema qualità sia tenuto correttamente vorrà vedere del materiale cartaceo e su cui ci sono le firme delle persone che hanno veramente visionato quel documento e quindi ci hanno apposto una firma. Quindi le verifiche ispettive servono per tenere sotto controllo tutto il sistema qualità, sono uno dei processi di sistema del sistema qualità, ovviamente il sistema qualità è funzionale alla buona gestione aziendale, ovviamente non è necessario essere certificati ISO 9001 per fare tutte queste cose, chi è certificato ISO 9001 queste cose ovviamente come sa chi lavora in un'azienda certificata ISO 9001 sono obbligatorie. Quindi andiamo a vedere come si inseriscono i dati nell'ambiente delle verifiche ispettive. Quindi abbiamo una verifica ispettiva, abbiamo un piano di verifica, il piano di verifica è quello che si fa annualmente dove si vanno a inserire tutte le verifiche ispettive che abbiamo in programma di fare durante quell'anno. Ora io ne ho inserite qui due, le analizzeremo e contestualmente vedremo anche come si inseriscono i dati, ne ho inserite due in questo piano numero 1 che possiamo vedere anche a schermo intero, inseriamo il numero del piano numero 1 dell'anno, anno di apertura, la data d'inizio del 2021 e quindi qui possiamo vedere a schermo intero quello che qui vediamo ridotto in caratteri più piccoli, ovviamente se qui ce ne fossero tanti di più qui viene la barra di scorrimento e questa tabellina si può scorrere. Quindi sono state programmate, supponiamo che per quest'anno l'azienda abbia programmato queste due verifiche ispettive. Una sulla conformità del prodotto, quindi quello che viene fuori dalla produzione e una sulla taratura degli strumenti di misura che sono quegli strumenti di precisione che ovviamente servono durante il processo produttivo per rilevare dei valori, per vedere se quel prodotto è fatto bene, se ci fossero dei componenti a o meno quel valore di quel componente all'interno eccetera. Quindi abbiamo ipotizzato di fare una prima verifica rispettiva sulla conformità del prodotto e l'attività da verificare, ovviamente si possono scegliere tutte le varie opzioni e dalle tendine se ne possono aggiungere delle altre che poi vanno da questo pulsante più tendine si possono aggiungere altre opzioni che poi vanno a finire qui nelle tendine come abbiamo visto anche nei video precedenti, quindi conformità del prodotto outsourcing, quindi qui c'è una ditta che fa fare le borse, in questo caso specifica attività, produzione borse, fa realizzare le borse all'esterno, quindi non le produce direttamente ma le fa realizzare da un'azienda esterna e lo scopo di questa verifica sarà il controllo delle clip, quindi per vedere se la clip delle borse si chiude e si apre in maniera corretta, quindi se è stata prodotta in maniera diciamo a regola d'arte. Una seconda verifica rispettiva sulla taratura degli strumenti di misura, quindi l'attività da verificare sarà quella delle misurazioni statistiche, nello specifico andremo a verificare la taratura dello strumento dei calibri, i calibri che si utilizzano per esempio nelle aziende metalmeccaniche. La sintesi dello scopo di questa verifica sarà il controllo dei rapporti di taratura perché le aziende su questi strumenti di precisione ogni tot a seconda dello strumento di cui si tratta devono portarlo all'esterno in un laboratorio autorizzato di taratura perché quello strumento misuri quella grandezza in una maniera esatta. Quindi abbiamo messo in programma queste due verifiche nel piano verifiche numero 1, per ogni piano qui possiamo prendere tutti gli appunti che vogliamo, quindi andiamo a prendere i nostri appunti, appunti pro memoria, qui in questo spazio si possono scrivere fino a 64 mila caratteri. Dopodiché andiamo, una volta che arriva il giorno che va effettuata la verifica ispettiva, andiamo a gestire la verifica ispettiva. Quindi per ogni piano abbiamo n verifiche ispettive, quindi si possono inserire tutte le verifiche ispettive che si vogliono, sempre con il rapporto 1 a infinito tra la tabella a monte e la tabella a valle, e quindi andiamo a fare la verifica ispettiva numero 1 e qui ovviamente quindi un piano n verifiche ispettive per ogni verifica ispettiva, anche qui possiamo inserire promemoria e potremo inserire n di questi altri oggetti, quindi n coinvolgimenti che dopo vedremo che cosa sono, n documenti, n fasi del piano attività in uscita alla verifica ispettiva. Quindi verifica ispettiva numero 1 che abbiamo detto si terrà il 26 gennaio 2021 dalle 10 alle 12 che riguarderà questo oggetto, la conformità del prodotto, ci sarà un responsabile della chiusura di questa verifica ispettiva per dire sì, veramente l'abbiamo fatta, ci metto la firma, l'attività verificata, le misurazioni statistiche, la specifica, la produzione di borse. Andiamo a vedere il luogo, sede della ditta di borse SNC a cui abbiamo commissionato la produzione, quindi in questo caso si tratterà di una verifica ispettiva esterna all'azienda, ovviamente le verifiche ispettive si fanno anche internamente all'azienda, qual è lo scopo di questa verifica, cioè perché vogliamo fare e ovviamente quali risultati vogliamo trarre da questa verifica, lo scopo è quello di controllare che almeno il 95% delle clip che aprono e chiudono le borse, su un campione di mille funzioni perfettamente. Poi andiamo a vedere i coinvolgimenti, i coinvolgimenti riguardano tutta una serie di rilevazioni che su cui poi come vedremo nell'ambiente di consultazione dati avremo automaticamente delle statistiche, quindi noi qui inseriamo questi pochi dati e molto rapidamente il software ci crea delle statistiche molto elaborate come andremo a vedere successivamente nella lezione successiva sulla dedicata alla consultazione e all'aggiornamento dati. Quindi la verifica ispettiva ha innanzitutto un gruppo di verifica, cioè chi è che fa questa verifica, il responsabile qualità aziendale che programma annualmente le verifiche ispettive dirà questa verifica ispettiva ha questo responsabile del gruppo di verifica, ha questo ulteriore componente del gruppo che è un semplice ispettore. Ovviamente nelle ditte più piccole non ci sarà bisogno di andare a fare il gruppo di verifica, sarà più che sufficiente una persona o basterà addirittura il solo responsabile della qualità. Quindi qui abbiamo la risorsa umana che si occupa di questa verifica ispettiva, di condurre la verifica ispettiva, il ruolo che ricopre l'azienda, il settore aziendale a cui appartiene. Poi qui abbiamo i settori aziendali, cioè i settori aziendali che sono coinvolti in questa verifica ispettiva. Poi lo scrivere qui in questa tabellina quali settori aziendali sono coinvolti nelle verifiche ispettive ci produrrà tutta una serie di dati statistici perché ci farà vedere quante volte su quel settore aziendale abbiamo fatto le verifiche ispettive perché magari poi da quella tabellina ci potremmo accorgere del fatto che un settore lo abbiamo un po' tralasciato e quindi magari ne andiamo a programmare una su quel settore su cui fino a questo momento non avevamo posto sufficientemente l'attenzione. I processi del sistema qualità che sono coinvolti in questa verifica ispettiva, ovviamente questo strumento come dicevo all'inizio può essere utilizzato anche da un'azienda che non ha la certificazione di qualità ma che vuole fare questi controlli e magari idealmente o se ci abbiamo una lista possiamo andare a dire ecco in questa verifica ispettiva è coinvolto il processo con cui gestiamo i commissionari in outsourcing cioè il processo con cui la ditta gestisce le ditte esterne che le producono le borse. Poi anche qui possiamo andare ad aggiungere anche le persone che sono verificate se si tratta di una verifica ispettiva condotta all'interno dell'azienda, ovviamente qui io non ho inserito nulla perché qui abbiamo detto che si tratta di una verifica ispettiva condotta esternamente all'azienda su un nostro commissionario. Poi le verifiche ispettive possono essere accompagnate da dei documenti, ci sono delle verifiche ispettive su attività molto semplici ma se si fa una verifica ispettiva su una linea di produzione magari ci possono essere dei documenti tecnici che nel momento in cui andiamo a fare questa attività andiamo a svolgere questa attività dobbiamo avere al nostro seguito per svolgerla in maniera proficua perché magari ci sono dei dati tecnici da consultare che non ci potremo ricordare tutti a memoria. Poi quando si fa una verifica ispettiva si fa una checklist cioè si fa il punto della situazione per dire a quando ora vado a fare la verifica sulla linea di produzione voglio verificare questo 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 e quest'altro o in questo caso che si tratta di una verifica ispettiva esterna io andrò nella ditta e mi sono proposto di prelevare dal magazzino della ditta verificata mille borse in modo random magari l'azienda ha diecimila borse ne prendo mille e controllo per ognuna che la clip si apra e si chiuda in maniera in maniera corretta che quindi la borsa sia stata realizzata quella clip sia stata realizzata a regola d'arte qui posso prendere tutti gli appunti del caso per fare poi il verbale come si fa in qualsiasi altra attività che prima si prendono gli appunti si fa un brogliaccio e poi dagli appunti che abbiamo preso tireremo fuori un verbale scritto scritto un po meglio dopodiché andiamo a scrivere il verbale io ho scritto questo brevissimo verbale di verifica ispettiva dove ho scritto di mille borse verificate 70 sono risultate con la clip difettosa rispetto al nostro standard del minimo del 95 per cento di clip funzionante abbiamo rilevato il 93 per cento con uno scostamento del 2 per cento in difetto quindi noi ci aspettavamo che almeno il 95 per cento delle clip funzionassero abbiamo rilevato che in realtà ne funziona solo il 93 per cento e quindi si rendono necessari controlli a breve scadenza in aggiunta a quell'annuale che magari facciamo sempre quella ditta al fine di verificare il rientro del commissionario nei nostri standard produttivi la questione è da sottoporre all'attenzione della direzione che magari potrà valutare se a richiamare il commissionario se farci altri accordi o anche se chiudere il il contratto con con quella ditta perché magari non ci garantisce gli standard di qualità che c'eravamo prefissi che avesse dovuto raggiungere e quindi il fatto di dover andare al di dover sottoporre questo argomento all'attenzione della direzione ci introduce a un altro argomento cioè a quello degli epiloghi all'inizio della lezione ho detto vi dirò cosa sono gli epiloghi gli epiloghi rappresentano l'eventualità di attivare in esito ad un oggetto della qualità un altro oggetto della qualità nel senso che in questa verifica ispettiva per esempio abbiamo detto che in seguito al fatto di aver rilevato un valore inferiore di clip non difettose rispetto a quello che ci saremmo attesi ci porta a sottoporre questo argomento alla direzione aziendale e quindi in questo caso andremo a mettere una spunta nel senso che dovremo fare un riesame della direzione poi abbiamo detto che dovremo controllare a breve questa questa ditta che ci fornisce le clip e quindi andremo a fare anche altre verifiche ispettive su questa azienda e sicuramente in questo caso abbiamo rilevato anche una non conformità perché rispetto allo standard e magari anche scritto nel contratto abbiamo rilevato un numero una percentuale inferiore a quella che ci saremo attesi quindi mettendo queste semplici spunte qui che sono una cosa molto veloce e che si possono aggiornare successivamente anche dall'ambiente di consultazione aggiornamento dati ci produce tutta una serie di dati statistici che saranno molto utili per vedere come gira il sistema qualità che poi controlla tutto il sistema aziendale perché mettendo queste tre spunte negli epiloghi del del in questo caso delle verifiche ispettive quindi nei grafici di cui avremo evidenza e nei valori numerici di cui avremo evidenza risulterà che in epilogo alle verifiche ispettive c'è stato una volta un riesame della direzione una volta altre verifiche ispettive una volta si è attivato anche il processo della gestione delle non conformità a loro volta gli epiloghi genereranno in maniera automatica le fonti degli altri oggetti del sistema qualità perché poi se andassimo ora subito a vedere poi dopo lo faremo nell'ambiente di consultazione aggiornamento dati le fonti delle non conformità vedremo che in un caso le non conformità sono state rilevate durante le verifiche ispettive e questo lo avremo sia sotto forma di numeri assoluti che sotto forma di percentuali. Vediamo infine il piano attività nel senso che in esito alle risultanze della verifica ispettiva ci andiamo a chiedere se è necessario fare qualcosa fare qualcosa di cui avere evidenza nel tempo e da trovare molto rapidamente nell'ambiente di consultazione e aggiornamento dati. Qui abbiamo deciso di fare altri due controlli a distanza ravvicinata a questa ditta di cui abbiamo trovato le clip eccessivamente difettose e andremo a fare un altro controllo subito subito dopo il 15 febbraio pochi giorni dopo ed un altro lo faremo ancora molto a distanza molto ravvicinata il 3 di marzo quindi con una data di inizio e una data di fine ovviamente più allo stesso giorno ma se fossero attività che si protraggono nel tempo ovviamente andremo a mettere due date diverse di inizio e di fine con un responsabile attuazione di questa attività cioè chi è che fa che cosa che è il cuore è la frase principe del sistema qualità responsabile attuazione responsabile della verifica della chiusura di questa attività ovviamente queste sono cose che sono più utilizzabili in aziende più più strutturate ma ovviamente qui in questo in questo in questa tabellina del piano attività potremmo scrivere anche anche niente non è non è obbligatorio per la registrazione di questa di questa maschera e abbiamo poi i report abbiamo detto all'inizio della lezione che di tutte le attività che vengono svolte nel sistema qualità bisogna poi dare un'evidenza cartacea nel momento in cui annualmente l'ente certificatore viene a ispezionare l'azienda e a vedere se tiene il sistema qualità come è previsto dallo standard internazionale della norma ISO 9001 attualmente nella versione della sua versione del 2015 quindi vorrà vedere delle evidenze cartacea dove i responsabili di quelle attività in fondo hanno apposto la loro la loro firma e quindi qui possiamo avere un report innanzitutto di questo piano verifiche che potrebbe avere 20 verifiche rispettive all'interno all'interno dell'azienda da questo pulsante con con la lente di ingrandimento possiamo avere un'anteprima del report da questo pulsante con l'icona del pdf potremmo andare a creare anche un file pdf magari anche da condividere su sharepoint se l'azienda utilizza questo strumento quindi andiamo a vedere l'anteprima del report e qui ci si apre automaticamente sul numero del piano quindi se fossimo al piano numero 10 ci si aprirebbe sul numero 10 quindi facciamo clic qui andiamo a vedere di cosa si tratta si tratta di un foglio a 4 che ci ha ricomposto ora questi qui nel caso del piano sono pochi dati ma tutti i dati che abbiamo inserito che abbiamo inserito dall'altra parte quindi qui l'elenco essenzialmente delle verifiche rispettive ovviamente ci sarà la necessità di cambiare la città, il giorno, chi è il responsabile della direzione, chi è il responsabile della qualità e da qui queste cose le possiamo fare ovviamente qui ci sono tutti i dettagli poi nella lezione sulle stampe che è dedicata interamente a tutte le stampe del software ma già da qui possiamo andare sull'icona del calendario e andare a scrivere Roma 12 giugno 2020 e poi anche dall'icona della piuma andare a mettere le firme quindi qui sono coinvolte due firme la direzione invece di Giorgio scriviamo Riccardo e per il responsabile della qualità invece di Roberto Bianchi scriviamo Roberto Rossi ora tornando nel report vediamo che ci ha preso subito queste modifiche che abbiamo inserito quindi Roma anziché Firenze come c'era scritto prima e i nomi che sono cambiati per quanto riguarda l'intestazione e il piedi pagina vi rimando alla lezione sulle stampe come vedete qui nel piedi pagina oltre al numero della pagina e alla data della stampa che si genera in automatico sono riportati i dati relativi a questo modulo nel sistema qualità ora io qui ho supposto che questo processo sulla gestione delle verifiche ispettive nel nostro sistema qualità sia il numero 1, questo sia il modulo 55, revisione 1 cioè il momento in cui abbiamo o immesso nel sistema questo modulo o abbiamo fatto una revisione a questo modulo, ci abbiamo modificato qualcosa e la revisione 1 con la sua data ovviamente il report lo abbiamo anche delle singole verifiche ispettive e i pulsanti dedicati sono questi quindi andiamo ad aprire il report della verifica ispettiva numero 1 del piano 1 quindi qui andiamo a scrivere il numero della verifica del numero 1 l'anno di svolgimento della verifica sarà il 2021 e anche qui in maniera molto più complessa qui ci sono dati più complessi e quindi ce le riordina tutti come possiamo vedere qui ci ha messo tutti i dati che abbiamo inserito dall'altra parte quindi il numero della verifica, il numero della verifica, di quale piano fa parte la data in cui si è svolta, l'orario, la sede in cui si è svolta quindi il gruppo di verifica, i soggetti che sono coinvolti i settori aziendali che sono coinvolti andando avanti troviamo le persone verificate se ci sono abbiamo detto che in questo caso non ce n'erano i documenti da analizzare nella verifica gli appunti che abbiamo preso, lo scopo, la checklist che avevamo fatto prima gli appunti per il verbale, il verbale che prima abbiamo letto insieme e tutte le fasi del piano attività in uscita anche qui possiamo andare ovviamente a modificare le firme qui abbiamo anche qualcosa in più in questo report nel senso che quegli argomenti di cui vi ho parlato prima cioè gli epiloghi e le fonti vengono riportati relativamente alle verifiche ispettive ora come vedete io ho inserito anche altri dati negli altri oggetti della qualità e quindi per esempio vedremo che le fonti delle verifiche ispettive per il 33,33% sono le stesse verifiche ispettive perché in questo caso siamo andati a dire che in esito al fatto che le clip non funzionavano tutte bene saremmo andati a fare delle verifiche ispettive a distanza ravvicinata e ci riporta ovviamente anche il numero delle volte in cui le verifiche ispettive sono state fonti di loro stesse sono state fonti anche dei piani qualità una volta sempre per il 33,33% e poi invece andiamo a vedere gli epiloghi delle verifiche ispettive cioè cosa abbiamo deciso di fare alla fine delle verifiche ispettive quindi per esempio abbiamo deciso di fare il riesame della direzione in un caso che nel totale vale il 20% e quindi cosa possiamo vedere ancora abbiamo visto tutto qui ovviamente ci sono tutti i pulsanti per raggiungere direttamente l'ambiente di gestione delle stampe per la modifica dell'intestazione del piedi pagina e di qualsiasi altro elemento sia modificabile e un'altra cosa da vedere è che da questo pulsante con il punto esclamativo abbiamo tutte le scadenze che sono presenti all'interno del software per avere un quadro immediato senza dover andare necessariamente nell'ambiente specifico di quell'argomento a consultare i dati quindi apriamolo un attimo io ora ho inserito alcuni dati anche negli altri oggetti del sistema qualità e qui vedremo ora lui sta elaborando tutte le scadenze che sono state inserite all'interno del software noi qui potremo scrivere verifiche ispettive all'esame della direzione, fatture, quello che vogliamo ora non scriviamo niente perché ce le faccio a vedere tutte e qui vedete che per esempio ci sono queste attività che ancora non sono state chiuse quindi qui si tratta in questa maschera che si apre vediamo solo cose che ancora sono in sospeso che ancora non abbiamo fatto quindi una verifica ispettiva da fare una fase del piano attività di una verifica ispettiva che ancora non abbiamo fatto una fattura da pagare una fattura da incassare e un'ultima cosa qui sotto gli epiloghi abbiamo questa rotellina con cui possiamo vedere il quadro degli epiloghi che ancora non sono stati gestiti quindi lista degli oggetti del sistema qualità su cui epiloghi non è ancora stato fatto il punto cioè io posso fare la verifica ispettiva programmo la verifica ispettiva inserisco tutti i dati non so ancora alla fine se dovrò fare qualcosa in epilogo alla verifica ispettiva e quindi se inserisco qualche spunta dopo dall'ambiente di consultazione dati non tornando sempre nella maschera potrò andare a vedere potrò andare a vedere la lista di tutti gli epiloghi su cui ancora io devo fare devo fare il punto quindi qui li vedo e poi dall'ambiente di consultazione dati li posso andare anche a modificare oppure cercare il numero della verifica ispettiva in questo caso il numero 1 o il numero 2 quindi tornare sulla maschera e andare a modificare i dati se tornare sulla maschera se ovviamente voglio avere il quadro completo il quadro completo della situazione e direi che possiamo chiudere qui questa lezione ti aspetto alla lezione successiva nella quale andremo a vedere dall'ambiente storico che ci possiamo accedere da qui come si consultano tutti questi dati che abbiamo inserito in relazione alle verifiche ispettive perché ora ti ho mostrato ti ho mostrato una verifica ispettiva del piano 1 ci è stata inserita anche la numero 2 e la vedremo interrogando per numero 1 per numero 2 o per attività da verificare o per tutte le altre interrogazioni che si possono fare andremo a vedere come si consultano i dati relativamente alle verifiche ispettive ti aspetto alla prossima lezione ciao